Musica 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 Sì l'ho fatto, non ci sono mai visto Sì, niente Eh? Sì, niente Ah, niente Ah, da parte Eh? No, la storia è... Sì, lo sai, un pezzino Sì, dai Questo è praticamente uno Allora, non se ne vada Se è la peccarella se stanno in vingare Ma, ma, ma... Ok un spettacolo a vedere però 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 ma 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 no ma 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 E' raccontando a morti. No, non lo devo dire, non lo devo dire, non lo devo dire. Non lo devo dire, non lo devo dire. No, ma il gioco è stato... E' molto melodica. E' molto melodica. E' molto melodica. E' molto melodica. No, no, devo dire. Molto melodica. Però è molto elegante. E' molto. Non ho capito. Sì, lui è il mango vivo. Sì, lui è il mango vivo. D'amore, quanto d'amore? Molto romano. melodica e molto sentimento e questo non me vuole portare non mi portano a fatica non mi portano a fatica ma i pisani sopra la bandera sopra la bandera ma i pisani ma i pisani sopra la bandera ma i pisani ma i pisani ma i pisani Che ti ho fatto? 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 No, 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 no. Che ti ho fatto? No, non so. Non c'è non c'è non c'è. Dì, non c'è non cosa? C'è la cara, non c'è la cara. Un'altra cosa? Non c'è la cara, non... C'è la cara? ma come siamo migliati un'istalla lacca un'istalla laca un'istalla un'istalla è così un'istalla un'istalla un break Grazie a tutti. Grazie a tutti.